Dal prossimo 4 marzo avrà efficace a Biancavilla l'ordinanza del sindaco Antonio Bonanno che prevede l'alternanza fra le scuole medie Bruno e Sturzo nello svolgimento delle elezioni pomeridiane. Dopo quattro mesi gli studenti della Sturzo frequenteranno al mattino, mentre pari grado della Bruno sino alla fine dell'anno seguiranno le elezioni di pomeriggio. All'ordinanza sindacale si oppongono adesso genitori e alcuni dipendenti dell'Antonio Bruno con un ricorso al TAR presentato dall'avvocato Andrea Inciulla che è in nostra compagnia. Chiediamo subito, avvocato, su cosa si basa il ricorso? Il ricorso si basa sul fatto che secondo noi ci sono delle illegittimità nell'ordinanza di natura squisitamente giuridica perché non voglio entrare in una diatriba politica che non mi compete. Secondo noi i motivi che hanno indotto il sindaco di mettere un'ordinanza basata su uno stato di pericolosità e quindi di pericolo per l'ingolumità pubblica in realtà sono insussistenti perché la manifestazione che si è tenuta il 14 gennaio non credo che si possa ritenere una condizione di pericolo per la vita delle persone e quindi viene meno il presupposto normativo su cui il potere del sindaco di poter emanare un'ordinanza del genere. Poi riguardo alla fondatezza della misura adottata e quindi alla opportunità e all'adeguatezza noi riteniamo che piuttosto che disporre così questo cambio repentino di turni tra una scuola e l'altra si potrevano e si dovevano anzi secondo me intraprendere altre strade. In uno dei punti previsti nel ricorso si parla di una lesione del diritto allo studio degli alunni disabili ma anche alla Sturzo vi sarebbero degli studenti disabili? Infatti io credo che qui bisogna chiarire subito una cosa di fondo cioè qui non si sta discutendo Sturzo contro Bruno o viceversa e quindi studenti dell'una di serie B e dell'altra di serie A qui si sta semplicemente auspicando che l'amministrazione comunale possa trovare una soluzione che possa mettere tutti gli studenti biancarillesi nella condizione di poter serenamente frequentare la scuola così come è giusto che sia. Nel ricorso suggerite anche l'utilizzo di altri locali disponibili quali sarebbero questi locali? Avete già una certezza che questi locali possono essere utilizzati? Guardi noi li abbiamo indicati in ricorso chiaramente poi compete all'amministrazione comunale muovere i passi necessari perché si possa effettivamente poi ottenere la disponibilità di questi locali ma quelli che noi abbiamo indicato sono locali che sicuramente sarebbero in grado di poter ospitare degli alunni mi viene in mente la prima così che mi viene in mente di digitare e chiaramente i locali del convento di San Francesco dove fino a qualche anno fa c'era una scuola anzi c'era la stessa Bruno che era ospitata lì è chiaro voglio dire che se poi ci sono problemi come io so di agibilità per il fatto che si tratta di una scuola caricata in zona di rispetto cimiteriale io credo che questo in una situazione di emergenza poteva essere chiaramente uno sacro facilmente sormontabile Adesso la domanda che in tanti si chiedono è quella dei tempi quali saranno i tempi per la risoluzione di questo problema e qual sarà anche l'iter procedurale che legislativamente bisognerà seguire Certamente, i tempi come voi tutti potete ben capire sono molto stretti perché l'ordinanza dovrebbe cominciare a produrre effetti dal prossimo 4 marzo quindi significa dalla prossima settimana Noi abbiamo chiesto al TAR di nel frattempo sospendere gli effetti dell'ordinanza Io a questo punto crederei anche che sia opportuno che la stessa amministrazione potesse un attimino soprassedere a questa data così perentoria in modo da dare serenamente la possibilità al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla fondatezza o meno del ricorso Il rischio non sarebbe quello che finisca l'anno scolastico ma ancora si è in attesa di un giudizio? Io credo che nell'epore l'amministrazione comunale dovrebbe invece cercare di attivarsi per vedere se effettivamente ci sono altre strade che si possono percorrere come peraltro prima dell'ordinanza dell'8 febbraio tutti pensavano che si potevano percorre altre strade Non dimentichiamo che la Bruno e il secondo circolo didattico avevano già messo a disposizione 16 classi quindi si tratta semplicemente di implementare questo numero di classi e fare in modo che si possa trovare una soluzione ragionevole da qui alla fine dell'anno scolastico Grazie a tutti! Grazie a tutti!